Benvenuti vicciotti nel mio canale Twitch Vi invito a lasciare un follow per cui troverete un nabbo che però adora i videogiochi da una vita Tutto quello che vedete qui è stato realizzato grazie a voi e lo miglioreremo sempre di più Andiamo in live tutti i giorni, quindi attivate le notifiche e rimanete aggiornati Adesso andiamo a vedere qualche clip che abbiamo fatto insieme qua in live A terra, parto Scappando da dietro, è qua Oh, ha eliminato uno Ha eliminato l'altro Oh 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 Oh